La guerra di Ognina, un progetto urbanistico, rischia di provocare uno scempio sul lungomare di Catania. Sentiamo Angelo Di Natale. Grazie ai poteri speciali per le emergenze, traffico e sicurezza sismica conferiti nel 2002 dall'ordinanza Berlusconi, l'allora sindaco Scapagnini avviò vari progetti di finanza. Quello per il parcheggio in piazza Europa da 10 milioni e mezzo è stato bloccato ed è in corso un processo penale. Il più consistente è quello che ingloba il lungomare di Ognina. 400 mila metri quadri di parcheggio a pagamento fra una strada che dovrebbe essere la via di fuga in caso di terremoto e rischio tsunami e un tratto di costa di un chilometro e duecento metri. 120 milioni di spesa privata in cambio di un mega business commerciale e una concessione di 38 anni con possibilità di riscatto. Una ferpe di privati, tre piccole società aventi tutte domicilio a pochi metri dal lungomare, loro offerto dal comune. Significherebbe sbancare la costa sostanzialmente di 400 mila metri cubi sul livello del mare, fare un'area commerciale di circa due o tre piani. Il progetto firmato dall'amministrazione Scapagnini fu ideato e motivato con l'esigenza di protezione civile di offrire una via di fuga antisismica, ma ben presto si è rivelato ben altro e tutt'altro. E tra le tante sue conseguenze lo stravolgimento del borgo marinaro di San Giovanni Licuti, che sarebbe integrato nel centro commerciale. Se c'è stato un errore e ci dovessero essere dei danni, pagherà le conseguenze chi ha commesso quegli errori, chi ha illegittimamente, secondo me, emesso quei provvedimenti. 27 associazioni gridano allo scandalo, la città è perplessa, anche l'amministrazione Stancanelli contraria. La giunta ha deliberato ricorso contro il provvedimento del commissario ad acta, il segretario generale del comune di Messina, Santi Alligo, nominato dal TAR a dito dai privati, il quale nel silenzio del comune ha determinato l'approvazione del progetto e la convenzione.